pratica di tiro bel colpo Rubble c'è stata una frana sulla strada fatto lo controllerò ragnatele che schifo che posto strano lasciami uscire Chase ha bisogno di aiuto andiamo vedo il bulldozer di Rubble controllerò quel castello sulla collina non mi piacciono i serpenti chi cerchi? il nostro amico Rubble non è qui grazie eh 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 guadagnatele che guadagnatele che sono qui Marshall aspetta la strada è bloccata abbiamo bisogno di una scala sono nel castello il cancello è troppo pesante ragazzi sono in cima alla torre attento Chase tieni duro rubble scendi dalla torre più piccola è lontano idea ce l'ho fatta vieni giù grazie amici mi avete salvato popa troll salva la giornata il mio motore ha smesso di funzionare niente carburante ora per il mio prossimo lavoro Marshall non dimenticare di riempire il serbatoio con l'acqua grazie grazie per avermelo ricordato amico ragazzi c'è una nave che sta entrando nel porto ho portato la mia nuova macchina fantastico vuoi provarla sul circuito? wow wow mi piacerebbe Marshall wow per prima cosa vediamo come gestisce l'acqua ha superato quel test vediamo come gestisce le colline ora metterò la trazione integrale ora prova le rocce fantastico cos'altro può fare la tua auto? te lo mostro che bello attenzione popa troll abbiamo una chiamata di emergenza tutti alle vostre stazioni andiamo cuccioli ragazzi ragazzi sbrigatevi sembra davvero un grande incendio non possiamo arrivare alla casa c'è una recensione Marshall fatti da parte che mi ha svegliato ottimo lavoro il fuoco è stato spento ahhh 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 cos'è quello? ahhh non riesco a guidare e non posso guidare ahhh sky aspetta ahhh ahhh ragazzi salvatemi eh? ahhh a essas dove stai andando? sorpresa! ora è divertente! non toccarmi! Marshall sono io! Chase sembravi così tanto un fantasma! mi viene un'idea! dove sei? voglio giocare ancora un po'! un fantasma! ha funzionato! sky aspetta! salta su di me! non aver paura! uno due tre! wow è ora di tornare alla base! ma che mi dici del mio elicottero? il fantasma sta piangendo! volevo solo giocare! non ho amici! vieni fuori! non volevamo spaventarti! grazie! dove sta andando? questo è per la vostra gentilezza! grazie fantasma! ora conto! vai a nasconderti! oh! nascondino! adoro giocarci! eh? ahahahah! Sì, 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 sì. Mamma, mammina! Chi sta urlando? Aiuto! Per favore! Qual è il problema, signorina? C'è un fantasma! Probabilmente stai solo immaginando le cose, i fantasmi non esistono! Che cos'è questo? Aiuto! Chiamerò Popatroll! No, non c'è tempo! Dovrò farlo da solo! Sono chiusi? È stato fantastico, Sky! Ottimo, Marshall! Tu sei il prossimo! Mi sono esercitato! Sentivo la mancanza! Non preoccuparti, Marshall! Passerai la prossima volta! È il mio turno! Aspetta, Rubble! Il prossimo è Rocky! Ma non è qui! Rocky, mi ricevi? Dove sei? Non risponde! Probabilmente ha bisogno del nostro aiuto! Ora controllerò la sua posizione! È nel vecchio castello! Che ci fa lì? Ci sono... fantasmi lì! Oh oh! Calmi, cuccioli! Salite sulle vostre macchine! Diamoci una mossa! Avanti a tutta velocità! Non c'è nessuno qui! I cancelli sono chiusi! Vedo la sua macchina! Rocky! Dove sei? Rocky? Ragazzi! 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 Ora possiamo giocare tutti insieme! Oh oh! Fammi uscire subito! Ragazzi! Avete sentito? Oh oh! Andiamo! Oh oh! Come faremo per entrare? Ho un'idea! Eh! Ryder, stai alla larga! Oh! Ha inventato qualcosa! Eh! Ottimo lavoro Marshall! Te ne devo uno! Eh! niente di quello che fai farà la differenza sto arrivando aspettate grazie ragazzi dobbiamo liberare la principessa sei libera bene questo è tutto non ho nessun amico ho capito il fantasma era solo annoiato e solo posso leggerti dei libri se vuoi adoro ascoltare le storie torniamo alla base cuccioli hai ancora un esame da sostenere rocky oh oh ciao 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 ciao